In questo video faremo il test della batteria Los Angeles della Borgonovo Borgonovo qui è l'importatore, questa è la Los Angeles ragazzi Classica batteria esagonale, esagonale 19 colpi, 25 mm il calibro ragazzi Qua dietro abbiamo la descrizione degli effetti, vedete calibro 25 mm, 19 colpi Perle in colori assortiti con stelle lampeggianti e scia Davvero alte aspettative per questa batteria che si preannuncia veramente bella, solida, ben costruita Classica grande qualità che abbiamo nei prodotti Borgonovo Adesso scusatemi ragazzi ma pesa veramente non poco da tenere in mano Davvero un gran bel pezzo Vediamo la grammatura, 243 grammi di esplosivo netto contenuto Non è davvero niente male ragazzi E' una gran bella grammatura per questa Los Angeles che non vedo l'ora di vedere in azione Magnifiche ragazzi Che roba Si vede la qualità ragazzi Che roba No vabbè ragazzi che aperture veramente maestose E questo ragazzi è quello che comprate, comprate qualità, comprate prodotti Che lasciano a bocca aperta E' una 25 mm Ma apriva come una 30 mm Ragazzi veramente tanta tanta qualità in questa Los Angeles Bene ragazzi se questa Los Angeles vi è piaciuta Noi l'abbiamo presa al negozio Giochi Pirci di Inzago Il Piro Shop più grande del nord Italia Grazie a tutti Grazie a tutti